Ciao a tutte e tutti. Ci siamo lasciati circa due mesi fa raccontando l'anno passato dall'inizio dell'offensiva del generale Khalifa Haftar verso la capitale Tripoli. Ci ritroviamo oggi con una situazione sul campo decisamente cambiata. Da circa un mese le forze leali al governo di accordo nazionale hanno di fatto riconquistato tutta la regione della Tripolitania. Questo è stato possibile grazie e soprattutto all'intervento turco che sin dall'inizio di gennaio, dopo la firma del memorandum ed intesa, ha sostenuto il governo di Tripoli con droni e mercenari siriani. Se in Tripolitania la riconquista è stata in parte agevolata dal ritiro preventivo da parte delle truppe di Haftar e da parte dei mercenari russi legati alla società Wagner, la scelta di Serrage di continuare le operazioni militari verso la città di Sirte ha scatenato la reazione militare da parte delle stesse truppe di Haftar. Oggi la città di Sirte è il teatro di guerra di questa nuova fase del conflitto libico. Sirte è una città strategica, è strategica sia dal punto di vista geografico che si trova da metà strada da Bengasi e Tripoli, è strategica inoltre perché può dare accesso diretto alle risorse petrolifere del nord del paese. Parallelamente allo scontro bellico, varie iniziative diplomatiche stanno prendendo piede in questo ultimo periodo. Il 6 giugno scorso il presidente egiziano Assisi ha convocato al Cairo il generale Haftar e il presidente del Parlamento di Tobruk, Aguila Saleh. Ad essi ha proposto un cessato il fuoco e la ripresa dei negoziari sulla base delle conclusioni della conferenza di Berlino. I due leader della Cirenaica hanno di fatto accettato questa proposta da parte di Assisi. Chi non ha accettato è stata la controparte di Tripoli che da Ankara ha fatto sapere di rigettare la proposta egiziana e di continuare invece le operazioni militari verso la città di Sirte. Tuttavia l'incontro del Cairo ha indicato inoltre un aspetto molto importante. La presenza di Aguila Saleh di fatto indica quanto il governo egiziano abbia ormai poca fiducia verso il generale Haftar. L'anno che è trascorso dall'offensiva senza alcun risultato sul campo pesa sulle spalle del generale della Cirenaica che di fatto sta perdendo il supporto dei suoi principali e storici sponsor, le Emirati Arabi, Egitto e in parte anche la Russia. L'intervento turco e l'attivismo russo sul piano diplomatico in questo ultimo periodo ha risvegliato anche l'attivismo statunitense nel dossier ibico. Gli Stati Uniti hanno sin da subito condannato la presenza dei jet russi nella base militare di Egyufra e successivamente invece hanno in un qualche modo appoggiato l'iniziativa del presidente Sisi. Lo stesso Trump ha avuto collochi telefonici sia con il presidente egiziano che con quello turco che a loro volta hanno in un qualche modo strumentalizzato questo attivismo statunitense quasi per giustificare le loro azioni sul campo. Dal fronte europeo sia Italia che Francia e anche Germania hanno espresso opinione favorevole all'iniziativa del Cairo che di fatto la stessa e almeno per ora resta un'iniziativa unilaterale e sponsorizzata da attori che sino ad un mese fa foraggiavano con armi e mezzi la guerra civile in Libia.